L'agricoltura è stata tutta la mia vita. Mio padre ha condiviso con me le sue conoscenze sin da quando ero bambino. Ho dedicato la mia vita all'azienda e alla mia famiglia. Molte cose erano diverse in passato, ma abbiamo sempre avuto partner su cui poter fare affidamento. Nei nostri campi mi è stata insegnata la tradizione contadina e ho fatto mia la missione di tramandarla alle generazioni future. Dobbiamo mostrare loro l'importanza della terra, il mutare delle stagioni e la meraviglia della natura. La nostra attività esiste da generazioni e abbiamo sempre fatto tutto il possibile per affrontare le sfide agricole. In agricoltura alcune cose non cambiano mai e alcuni lo fanno. Sono Leo e ho 75 anni proprio come Stair. Sono Lena e sono entusiasta di vedere cosa porterà al futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti